benvenuti a tutti e ben ritrovati amici della trading room in questa sessione andremo a parlare di volatilità e di come poterla sfruttare ovviamente a nostro vantaggio per quanto riguarda le opzioni ma prima di tutto come sempre sigla delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su youtube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io allora partiamo subito con un concetto ovvero che i mercati cambiano non sono mai uguali a loro stessi ed è per questo che noi insistiamo tanto sul concetto di conoscere il mercato piuttosto che di conoscere una singola strategia perché una singola strategia potrà funzionare qualche mese anche un anno ma poi quando il mercato andrà a cambiare la sua natura chiaramente quella strategia non funzionerà più mentre se si conoscono i mercati allora a quel punto avremo sempre delle nuove frecce nel nostro arco per poter andare a guadagnare in maniera costante e vi dico questo perché se vediamo qui l'andamento dell'indice VIX e poi dopo vedremo l'andamento dell'indice Standard & Poor's 500 ci possiamo proprio accorgere di questo cioè di come il mercato vada a cambiare qui abbiamo la volatilità dal 2018 fino ad adesso quindi fino alla fine dell'agosto 2021 come possiamo vedere negli anni passati quindi prima della pandemia da covid quindi tutto 2018 e 2019 abbiamo visto una volatilità sempre molto schiacciata verso il basso quindi con un minimo con i minimi intorno area 10 11 e poi alcune folate a rialzo in area 20 ma comunque volatilità sempre molto bassa che ritornava sui minimi precedenti dopo la pandemia abbiamo visto una crescita momentanea della volatilità del 600 per cento che ha portato l'indice VIX da praticamente un livello di 12 fino a un massimo addirittura sopra a 85 dopodiché piano 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 la volatilità è rientrata sui livelli precedenti senza però mai più tornare ai livelli del 2019 quindi quei minimi in area 11 12 ma oramai i nuovi minimi sono in area 15 e le occasioni di acquisto per l'appunto scusate anzi di vendita di opzioni si presentano quando la volatilità supera questa questo livello in area 21 22 quello è il momento in cui può essere interessante lavorare con le opzioni in vendita e guardiamo anche l'indice standard and poor vediamo che nel 2018 a noi che cosa ci interessa ci interessano gli aumenti di volatilità perché essendo fondamentalmente dei venditori di opzioni quello che ci interessa è riuscire a vendere quando la volatilità è un po' più alta perché la volatilità alta va a gonfiare il valore delle opzioni quindi abbiamo visto nel 2018 ad esempio a fine gennaio un ritracciamento del 12 per cento poi di nuovo a marzo 8 per cento poi bisogna arrivare addirittura ad ottobre dove ha fatto un meno 20 poi arriviamo 2019 con ad aprile un meno 7 dopo di che a luglio un meno 7 e poi arriviamo nuovamente nel 2020 con questa discesa che c'è stata dovuta alla pandemia quindi nel marzo febbraio 2020 con un meno 35 per cento poi ancora ad agosto un meno 8 ancora a settembre un meno 11 e ad ottobre un meno 8 e fondamentalmente si va a concludere diciamo questo triennio e in questo triennio a che cosa ci siamo abituati ma anche negli anni precedenti anche diciamo possiamo dire dal 2014 2015 in avanti fino a inizio 2020 eravamo abituati a un mercato tendenzialmente rialzista con ritracciamenti di due tre volte l'anno di un 8 10 per cento e chiaramente quando si presentavano quei ritracciamenti era il momento di caricare un po' di più per quanto riguarda la vendita in opzioni se vediamo invece quest'anno abbiamo avuto solamente a gennaio a febbraio a maggio poi ancora a giugno a luglio e ad agosto dei micro ritracciamenti pensate che quello più profondo è stato quello di febbraio con un meno 5 e mezzo per cento dopodiché sono tutti nell'ordine di un 3 4 per cento con un mercato che continua a crescere all'infinito questo perché perché sono cambiate le politiche monetarie per l'appunto per quanto riguarda le banche centrali quindi abbiamo visto una federal reserve piuttosto che la banca centrale europea applicare delle politiche estremamente espansive quindi con i tasse di interesse a zero e con enormi prestiti fatti nei confronti poi dei dei singoli stati che vengono riversati nell'economia e che fondamentalmente stanno trascinando i mercati a rialzo quindi per quest'anno è molto improbabile vedere il mercato fare degli storni più profondi di quelli che abbiamo visto attualmente e se ci spostiamo sul VIX possiamo vedere come anche sul VIX poi andando scusate vado a prendere il grafico proprio di di quest'anno eccolo qui lo vediamo vediamo eccolo qui l'andamento dello standard and poor estremamente positivo pensate che dall'inizio dell'anno siamo comunque sopra quasi di un 20 per cento e qui il VIX e come possiamo vedere dopo che la volatilità è rientrata sui livelli quindi precedenti quindi da marzo in avanti poi ci sono stati dei ritracciamenti che hanno portato il VIX in in momenti piuttosto rapidi superare questa barriera dei 20 ma che cosa anche abbiamo notato rispetto agli anni passati che a fronte di ogni storno poi subito dopo abbiamo visto un recupero del mercato molto molto rapido cioè ogni volta che c'è uno storno del 3 4 per cento il mercato lo recupera in 3 4 giorni di conseguenza bisogna anche essere molto rapidi quando poi andiamo a impostare le nostre strategie e siccome non abbiamo sempre il tempo di rimanere inchiodati sulla piattaforma quello che io raccomando è di mettere degli alert sulle proprie piattaforme in questo caso basta fare un tasto destro vedete allega avviso e qui fondamentalmente quando il VIX supera un certo livello inizia a scampanellare la piattaforma e così ce ne possiamo rendere conto immediatamente qui come sapete noi facciamo prevalentemente dei vertical spread in vendita e non conviene farli con la volatilità bassa per due motivi il primo è che si vanno ad incassare dei premi più piccoli rispetto a quando la volatilità è più alta e il secondo è che in caso di uno storno se io vendo opzioni se io vendo tantissime opzioni quando la volatilità sta a 15 e il mercato poi storna e magari la volatilità arriva a 22 23 30 il valore delle opzioni si gonfia tal punto che io rischio di andare a prendere tantissime stop loss anche se poi magari il movimento del sottostante non è stato così accentuato quindi per ricapitolare quando conviene conviene mettersi degli alert quando arriva intorno a una volatilità sui 20 22 e da lì andiamo a caricare a mettere un po di operazioni in vendita altrimenti non risulta essere molto conveniente a quel punto conviene prevalentemente acquistare delle opzioni poi tutto questo chiaramente lo vedremo all'interno del nostro trading club dove chiaramente vi invito tutti visto che tra un paio di settimane riprenderemo e avremo anche come sempre la settimana aperta dove sarete tutti invitati a vedere come lavoriamo quali risultati otteniamo in diretta sui nostri conti reali io vi ringrazio per l'attenzione vi invito a iscrivervi al nostro canale e se vi è piaciuto a mettere un bel like a condividere questo video ciao e alla prossima